È un piacere accogliere la Quirinale. Benvenuti. Domani sarà una grande occasione di sport. Sono certo che sarà preceduto ad un momento di raccoglimento in riferimento agli avvenimenti così drammatici che hanno colpito nei giorni scorsi la Romagna. Con un ricordo delle vittime, un pensiero a tanti nostri concittadini in difficoltà. Sono migliaia quelli che hanno dovuto lasciare le proprie case inondate. Vi sono appunto tanti nostri concittadini che hanno visto le case devastate dall'acqua, con la perdita anche di tutti i ricordi della propria vita. Vi sono tanti che hanno subito la devastazione delle aziende industriali, agricole, commerciali e luoghi professionali dove lavorano. Vi è una grande sofferenza che richiede un grande impegno di solidarietà da parte di tutta l'Italia, che si sta manifestando in queste ore e in questi giorni. È un impegno di sostegno, di forte aiuto per questi nostri concittadini. Ma se domani sera un messaggio di raccoglimento da parte di un evento sportivo così seguito da milioni di persone sarà un bel messaggio che contribuirà a incentivare questo sentimento di vicinanza e di solidarietà nel nostro Paese. Sarà un evento di grande importanza sportiva, ripeto. Questo messaggio che manderete sarà anche un messaggio che si manderà all'inizio, prima del fischio d'inizio, sarà anche importante per dimostrare che il calcio come lo sport, che sono componenti rilevanti, molto rilevanti della vita italiana, non sono separati dalla società, ma sono all'interno della vita sociale e ne avvertono tutti gli aspetti e tutto quello che avviene nel nostro Paese e anche intorno allo sport. C'è un esempio che voglio ricordare. Poc'anzi il Presidente Gravina e la Guida della Nazionale, Roberto Mancini, mi hanno consegnato la maglia della Nazionale, quella fatta, predisposta per ricordare Gianluca Vialli. Che oltre ad essere esemplare come atleta, lo era perché non ho mai dimenticato di essere consapevole di quello che vi è oltre il calcio, oltre lo sport, nella vita sociale. Sarà un messaggio importante che manderete in quel momento e precederà questo grande evento che tanti seguiranno. Io non potrò seguirlo, purtroppo, perché ho un impegno altrettanto gradevole, importante. In queste sale domani sera, alla stessa ora, riceverò il Presidente della Repubblica dell'Angola. Dopo l'incontro, quando cercò di vedere una sintesi, sono convinto che sarà un incontro di grande valore, anche perché entrambe le squadre avete dimostrato, non soltanto in questo anno e in quest'ultimo anno, ma anche in quest'ultimo anno, il grande livello atletico e tecnico di cui esprimete. E avete anche, d'altronde, una storia alle spalle molto importante. A causa della mia età, ricordo la Fiorentina di Costagliola e l'Inter di Lorenzi. E dopo qualche anno ho seguito con attenzione e con partecipazione, con coinvolgimento, anche la Fiorentina di Cervato, di Montuori, Gioligno, Virgili. E poco dopo, con altrettanto coinvolgimento e partecipazione e attenzione, l'Inter di Angio Moratti e di Regno Herrera, quello di Bognici e Facchetti, di Suarez e Corso. Avete quindi questa grande storia che avete dimostrato di onorare, giocando a livello, esprimendo il livello di questi grandi campioni del passato. Sono certo per questo, domani sarà un incontro di alto livello tecnico, sportivo. Sono convinto anche che sarà un incontro contrassegnato, oltre che dall'impegno agonistico, necessario perché la posta in palio è importante, anche da grande lealtà e correttezza. È molto bello vedere, prima del fischio d'inizio, vedere lo scambio di saluti tra i giocatori. E dopo, a partita conclusa, i frequenti abbracci che vi scambiano tra i calciatori e le squadre avversarie che hanno appena giocato sul terreno. È altrettanto bello vedere nell'intermezzo, tra questi due momenti, altrettanta lealtà e correttezza durante l'incontro. E certamente così farete voi domani. Con lealtà e correttezza, sono convinto, sono certo che sarà un incontro di grande livello sportivo, senza falli pericolosi volontari, senza simulazioni. Se posso esprimere una battuta, le simulazioni sono un virus che somiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto negli ultimi mondiali di calcio in Qatar. Ed è una... sono convinto che questo sarà estraneo domani al vostro incontro, che sarà un incontro contrassegnato dalla grande capacità sportiva che voi esprimete costantemente, dalla grande capacità tecnica, atletica e anche da grande correttezza, da grande lealtà reciproca. E mi auguro anche che i tifosi che vi seguiranno, che seguiranno l'una o la nostra squadra allo stadio, si rispettino vicendevolmente, applaudendo alla fine e comunque vada, applaudendo il risultato e entrambe le squadre. Io vi seguirò, attenderò con piena imparzialità il risultato. non soltanto perché questo è il mio ruolo che mi impone di semmai tifare per gli arbitri e non per le squadre, ma anche per quello che ho detto, dei ricordi che ho, che mi accompagnano per entrambe le squadre. Complimenti per questo traguardo, che è importante la finale di Coppa Italia. Auguri per domani. Sono certo che offrirete un grande spettacolo sportivo. Auguri. Grazie.